Sono stati sbloccati 18 milioni e mezzo di euro di finanziamenti dopo la richiesta avanzata dal Comune di Terni nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana, così come previsto dalle DPCM del 21 gennaio 2021. Tra le opere interessate dal finanziamento ce ne sono alcune di rilevanza strategica per la città, a cominciare dall'intervento per il secondo stralcio del nuovo Teatro Verdi, per il quale sono stati stanziati 10 milioni di euro che consentiranno il completamento dell'opera. Sono inoltre stati stanziati 600 mila euro per la realizzazione del sottopasso pedonale tra viale dello stadio e via Airoldi, per consentire di raggiungere a piedi o in bici l'area del nuovo Palaterni e lo stadio comunale. 682 mila euro per la realizzazione della pista ciclabile via Bramante-Borgo Rivo, 500 mila euro per la manutenzione straordinaria e la rifunzionalizzazione della Casa delle Musiche, 200 mila euro per la manutenzione straordinaria della sala Montesia Marmore, 1 milione di euro per interventi di riqualificazione e rifacimento dei giardini pubblici, la passeggiata, 400 mila euro per il completamento del parco urbano Bruno Galigani nel quartiere Cardeto in riferimento al secondo lotto funzionale, 150 mila euro per la riqualificazione dell'ex Chiesa del Carmine con l'adeguamento strutturale della copertura, 1,5 milioni per la riqualificazione del campo scuola Casa Grande ed infine 2 milioni per la riqualificazione dei campi sportivi all'aperto in aree periferiche. L'obiettivo ha sottolineato l'assessore Benedetta Salvati è quello di una Terni rigenerata, più verde, più attrattiva e capace di migliorare sensibilmente la qualità della vita dei suoi cittadini con infrastrutture adeguate e all'avanguardia.